Ho una brutta sensazione amico, ho paura che questa volta non ce la farò proprio, ma ce la farei. Sono l'agente speciale di insonati, saremo lo spedio alla parte dell'aereo che non rispondi immediatamente. Riesco solo a pensare che non c'è nessun Dio, Dio non esiste. Ehi, tu mi puoi andare a dimostrarti che invece Dio esiste. Ehi, tu mi puoi andare a dimostrarti che non c'è nessun Dio, Dio non c'è nessun Dio. Ehi, tu mi puoi andare a dimostrare. Ehi, tu mi puoi andare a dimostrarti. Ehi, tu mi puoi andare a dimostrarti. Grazie.